Uno striscione in alto nella navata sinistra della cattedrale colpisce immediatamente lo sguardo di chi entra. Si trova accanto agli alberi appesi i capovolti. Lo striscione è uno degli elementi del presepe realizzato nella chiesa madre nissena tra le diverse cappelle laterali e che rappresenta un rullino fotografico con impresse delle orme che conducono, così come quelle colorate presenti sul pavimento, sino alla natività allestita nella cappella del cuore di Gesù. Un presepe dal forte impatto visivo e che racchiude un messaggio di pace partendo da un ingrandimento del Papa nel giorno dell'Immacolata. Siamo partiti dal pianto del Papa l'8 dicembre alla piazza di Spagna quando andò per l'Immacolata a deporre il solito maggio floreale e scoppiò in pianto. Le lacrime di Papa Francesco ci hanno inquietato, nel senso che ci hanno rimesso nel cuore il desiderio della pace, e quindi un desiderio che non è soltanto statico ma che è diventato dinamico con la comunità parrocchiale coinvolgendo tante persone. Abbiamo pensato di continuare a riflettere sulla pace attraverso delle immagini nelle cappelle laterali e attraverso una grande scritta su una specie di ruino fotografico srotolato in cui campeggia proprio la scritta per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Già ci sono in alto, in questo banner, le impronte dei ragazzi del liceo artistico Rosario Assunto che hanno, diciamo insieme ai loro professori, il professore Piero Locurto, la preside Bonomo, hanno lavorato perché si realizzasse questo grande banner che ci conduce direttamente alla grotta, passando però attraverso delle cappelle laterali in cui i ragazzi hanno messo a fuoco i temi della pace, del desiderio della pace di questo tempo di avvento che ci propone il profeta Isaia, con la collaborazione di Angelo Spina, di Mimmo Laplaca, degli altri sacerdoti della cattedrale, dell'azione cattolica, del terzo ordine francescano, del tutto il gruppo CL4, siamo riusciti a vivere questo scorcio del tempo di avvento con questa forma di preparazione e con nel cuore il desiderio della pace. Coinvolti nella realizzazione del presepe tanti giovani, come nel caso dei bambini del catechismo insieme ai loro catechisti e gli scout. Quest'anno abbiamo analizzato nella nostra branca, quindi la branca RS, abbiamo analizzato il tema della guerra, quindi partendo dalla frase di Isaia, dove dice che gli strumenti di guerra si trasformano in strumenti di uso agricolo, e ci è venuta in mente appunto quest'idea di creare un cannone che non fosse elemento di distruzione, ma di pace e di vita, quindi ricco di vegetazione, che spara una palla, che non è una palla distruttiva appunto, ma è una palla di rinascita di pace, che è rappresentata appunto dalla natività. e nel frattempo vi sono appunto tutte le parti distrutte dalla guerra che si riempiono di vegetazione, di piante e quindi di la vita che rinasce dalla distruzione.